Grande interesse alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo per il catalogo unico dell'offerta turistica bergamasca. La provincia di Bergamo è presente con uno stand istituzionale all'interno del padiglione di Regione Lombardia, alla più grande esposizione al mondo dell'offerta turistica italiana e tra le primissime fiere di riferimento per l'industria turistica mondiale, con oltre 5.000 espositori provenienti da 130 paesi. Il progetto della comunicazione turistica integrata ha visto la presenza dell'assessore al turismo della provincia di Bergamo, Giorgio Bonassoli, e il presidente di Turismo Bergamo, Silvano Ravasio. Vogliamo presentarci in tutta l'offerta turistica che Bergamo può proporre, quindi le diverse valenze turistiche, lago, montagna, cultura, che richiamando i colori del logo, quindi del nuovo marchio d'area dell'arlecchino, verranno distribuiti su questo nuovo catalogo, un catalogo di 100 pagine che affronta le varie tematiche, un catalogo che sarà anche multimediale, perché attraverso i famosi ormai QR code si potranno approfondire le tematiche e accedere a diversi approfondimenti anche culturali, e in più riporterà tutti gli eventi che il territorio sta organizzando durante il corso dell'anno. È una grande soddisfazione arrivare già in pochissimi mesi di collaborazione e di lavorazione. Io dico comunque, ed è stata estremamente importante, la forza determinante della provincia di Bergamo che ci ha permesso appunto di arrivare sul catalogo e offrire al turista e chi vuole visitare Bergamo una carta d'identità veramente di grande prestigio e di grande valore. Agli operatori è stata spiegata tutta l'offerta turistica che la terra bergamasca offre, il brand territoriale e il nuovo portale dedicato alla promozione del territorio con le caratteristiche multimediali che lo contraddistinguono.